Buonasera cari lettori, videodicola di lunedì, 4 giorni a Natale, partiamo nel raccontarvi il giornale che troverete in videodicola domani da un Natale che non potrebbe essere assolutamente felice ed è Francesco Veielli, subito quindi Francesco Veielli, Pallacanessa Varese, due pagine domani sulla crisi della Pallacanessa Varese, vedete il gesto che è ben chiaro, ne abbiamo di cose, abbiamo un'intervista bomba sulla crisi della Pallacanessa Varese che ha fatto, perdonateci il termine, ridere a Venezia, si può perdere, ma ha perso senza dignità, è inutile nasconderselo e domani c'è un'intervista di un personaggio importante legato alla Pallacanessa Varese che parlando da tifoso e per i tifosi, in mezzo ai tifosi, avendoci messo anche tanti soldi, dice la sua, senza per il suo lingue. Abbiamo poi le lettere che continuano ad arrivare in redazione dei lettori e degli abbonati alla Pallacanessa Varese che sono delusi. Mercoledì sera partita in casa con Cremona, è una partita importantissima, è una partita a cui non si può non stare vicini alla Pallacanessa Varese sperando che la vinca perché altrimenti sarebbe veramente dura. Oggi il Caio adesso magicamente cambia la pagina perché è anche sulla provincia e sulla provincia invece abbiamo una bella notizia di Natale, vediamo un po' se la trova, eccola lì, totalmente vuota quindi non sappiamo cosa li sta preparando, lo facciamo dire da lui. Caio, prego. C'è il lancio web, eccolo qua, c'è il lancio web, inquadra l'Oale, qualche giorno fa, una decina di giorni fa vi avevamo raccontato la storia di Andrea, un ragazzo di Castellanza che era dato per disperso in Belgio, si era attivato un tantam tra i suoi amici, Andrea è un tifoso della Propatria per cui conosciutissimo lo Speroni e proprio i tifosi della Pro avevano attivato questo tantam su internet per ritrovarlo. Ecco, oggi per fortuna Andrea, grazie a un amico che vive in Belgio, è saltato fuori. Non sta benissimo nel senso che è in un ospedale a Dunkerque, però non è in pericolo di vita e tornerà a casa, questa è una bella notizia. Due notizie consecutive in due giorni di ragazzi scomparsi che vengono ritrovati per cui sotto Natale, dai, fa piacere. Grazie Caio, ci spostiamo velocemente nell'altra redazione, andiamo a raggiungere Sara Bartolini che vi sta preparando le pagine di Varese. Qui invece andiamo su un'altra notizia incredibile che abbiamo dato anche oggi sul nostro sito, cioè che è stato trovato, pizzicato questo falso cieco che giocava addirittura alla guerra nei boschi, ecco la foto, naturalmente domani vi raccontiamo tutto, faceva il subacchio e dal 90 aveva una pensione di invalidità ed era stato assunto in città come centralinista. Una brutta storia di quelle che ci sono anche a Varese perché Varese non è Svizzera come dicono tutti, Varese è assolutamente Italia. Abbiamo però anche delle belle cose in Varese e stasera proprio alle 9 parte questa fiaccolata al lago per salvare il lago dei grillini, la seguiamo, la seguiamo con le foto, la seguiamo con un giornalista, Fabio Gandini e poi abbiamo anche tante altre storie in Varese come quelle che abbiamo raccontato negli ultimi giorni, abbiamo anche una novità, una novità importante che vedrete sul giornale di domani con cui apriremo anche l'edizione della provincia di domani. Per il momento vi ringraziamo e naturalmente vi diamo appuntamento a domani in edicola.